Siamo arrivati al momento di una tavola rotonda, il titolo lo vedete già in sovrimpressione, smart working, diritti e doveri da normare. Ci sono proprio tutte le parole chiave che andremo ad analizzare in questo dibattito interessante che prosegue sui temi proprio delle Char Forum e che approfondiremo. Allora, una premessa su tutte che è una premessa che forse abbiamo fatto miliardi di volte. L'anno che ci siamo lasciati alle spalle, o meglio, l'anno che abbiamo ancora sulle spalle ha portato profondi cambiamenti. Parliamo naturalmente dell'emergenza sanitaria della pandemia che ha richiesto alle aziende un profondo cambiamento, alle aziende e a chi lavora a 360 gradi, quindi sia nei modelli interni di gestione sia nelle relazioni proprio tra le persone. Tutto è cambiato, tutto è stato in qualche modo ribaltato e noi abbiamo dovuto fare i conti e misurarci con un nuovo modo di lavorare. Nel corso di questo Char Forum, per questo ho detto proseguiremo un po' nel dibattito e nelle considerazioni che abbiamo già fatto, stiamo ascoltando come cogliere al meglio queste sfide, come affrontare la nuova normalità. Un'altra parola chiave, insomma, che ci ripetiamo ormai da mesi, analizzando quelli che sono i nuovi modelli di lavoro e ripensandoli tutti insieme, ripensando i processi interni, sviluppando quindi nuovi modelli di riferimento. Adesso però, proprio in questo spazio, in questa tavola rotonda, è arrivato il momento di aggiungere un nuovo tassello, di fare un passo ulteriore fondamentalmente in questo cambiamento e parleremo, e anche qui lo ritroviamo nel titolo di riferimento, dell'impianto normativo che deve accompagnare il cambiamento, che deve supportarlo. Per disciplinare lo smart working, lo smart working, quindi la nuova normalità, è necessario modificare la normativa che esisteva prima di questo momento di emergenza, prima della pandemia. Non solo, bisogna, e questo è un altro punto chiave, ripensare la contrattualistica e probabilmente anche lo stesso paradigma di subordinazione. Presento subito i miei ospiti, coloro che ne parleranno come Carlo Fossati, parto da lei, ben trovato, senior partner, studio legale Icchino Brugnatelli e associati, grazie per essere qui. Claudia Scheffer, lead HR consultant EMEA and head of HR Italy Nordics, HSBC, grazie. Grazie. Ben trovata. E in collegamento, Simona Liguoro, HR director Nespresso Italiana. Grazie anche a lei, Simona, e benvenuta. Buongiorno. Buongiorno. Partirei da lei, avvocato, perché prima di addentrarci proprio, cioè ci sono tanti aspetti che andremo ad analizzare, io ho fatto una premessa da una parte superficiale ma che già ha messo sul tavolo i punti che analizzeremo, però prima di entrare nel merito dei cambiamenti da portare proprio alla normativa dello smart working, partiamo proprio dall'inquadrare questo concetto che nominiamo tantissime volte al giorno, però vogliamo capire esattamente di cosa si tratta. Come è stato concepito questo strumento in Italia? Sì, innanzitutto bisogna tenere presente che l'istituto nasce in un contesto in cui si pensava allo smart working essenzialmente come uno strumento eccezionale, non destinato a un impiego massivo. Una sorta di benefit che poteva essere dato ad alcuni dipendenti, magari al posto di una promozione, di un aumento di stipendio, oppure per andare incontro a esigenze personali, familiari particolari, comunque destinato tendenzialmente a essere sperimentale, quindi suscettibile di essere evocato in qualunque momento e comunque essenzialmente concesso nell'interesse del dipendente. Dare la possibilità a un dipendente di lavorare un certo numero di giornate alla settimana o al mese in smart working era un benefit alla fine. Si consentiva a questo dipendente di poter gestire meglio il work-life balance e le esigenze che sono legate alla gestione della vita familiare, conciliandole meglio con il proprio lavoro, risparmiando costi e tempo e fatica sul commuting, insomma tutte quelle cose che sappiamo. Questo paradigma possiamo dire che a distanza di un anno e mezzo dall'inizio dell'emergenza è stato sostanzialmente ribaltato, perlomeno in parte, nel senso che quello che è successo è che oggi stiamo pensando, ma questo ce lo diranno probabilmente meglio di come non possa dirvelo io e le colleghe presenti, che in realtà siamo in un contesto in cui si pensa allo smart working come a uno strumento che innanzitutto le aziende hanno potuto constatare che non incide negativamente sulla produttività, perlomeno non necessariamente, anzi in certe situazioni addirittura si sono registrati degli aumenti di produttività, che può essere utilizzato in modo massivo e che se utilizzato in modo massivo in realtà può portare a rilevanti risparmi, a rilevanti benefici sulla gestione delle facilities, degli uffici, eccetera. Dall'altra parte ci sono i dipendenti che avevano sempre pensato, prima della pandemia, allo smart working come appunto a una sorta di benefit che poteva o meno essere concesso e adesso si rendono conto che effettivamente è un istituto che può consentire di gestire meglio il rapporto tra lavoro e vita privata, aiuta a risparmiare i tempi del commuting, però poi dall'altra parte si rendono anche conto che ha dei limiti, nel senso che innanzitutto per lavorare bene in smart working bisogna poter disporre a casa di spazi articolati in un modo tale che non si può pensare che tutti li abbiano, anzi, è tutto tendenzialmente eccezionale chi li ha. Come abbiamo dovuto fare noi in fretta, in velocità, senza potersi organizzare. Esatto, esatto. E poi c'è anche il tema che ormai i dipendenti si sono resi perfettamente conto che lavorare in smart working molto spesso significa avere decisamente più difficoltà nel dividere lavoro e tempo libero. La commistione tra lavoro e tempo libero, che è uno dei grandi vantaggi dello smart working perché consente di gestire meglio potenzialmente entrambe le cose può diventare una minaccia per una buona protezione della propria sfera di tempo libero. Quindi in un anno e mezzo c'è stata un'accelerazione che ha fisiologicamente invecchiato una normativa che comunque era nata già abbastanza vecchia perché lo smart working funziona nella misura in cui è estremamente flessibile e la nostra normativa invece questa esigenza di flessibilità la soddisfava molto parzialmente. Tra l'altro la situazione legislativa era peggiorata in modo sensibile a mio personale modo di vedere dal modo in cui lo smart working è stato regolamentato a livello di contrattazione collettiva in quei settori in cui lo è stato perché non è stato regolamentato in tutti i settori dalla contrattazione collettiva ma per esempio nel settore del credito, settore in cui opera l'autoressa Sheffer quindi sa meglio di me di cosa parliamo la regolamentazione del contratto collettivo nazionale dello smart working è assolutamente anacronistica a mio modo di vedere oggi perché pone una serie di vincoli, di limiti che non hanno senso rispetto a come è concepito l'istituto in questa fase. quindi insomma diciamo che la criticità più rilevante che vedo a livello normativo nel modo in cui l'istituto dello smart working è stato regolamentato dalla legge in epoca pre pandemia ed è la criticità con cui si dovranno assolutamente confrontare si dovrà confrontare il governo e il legislatore prima che venga meno l'attuale normativa emergenziale è quella che per come è concepito oggi lo smart working può essere revocato in qualunque momento sia dal lato dell'azienda che dal lato del dipendente con un preavviso. Questo contrasta pesantemente con le esigenze di oggi perché un'azienda deve poter contare sullo smart working per poter gestire adeguatamente i propri spazi e i propri uffici e in un contesto in cui il dipendente può prestare il consenso ma può ripensarci a distanza di mesi chiaramente questa cosa a livello di programmazione non funziona. Non funziona, esatto, gli spazi, il lavoro, questa cosa qui va assolutamente in qualche modo modificata. Ho trovato, concedetemi la parola, due paradossi nel discorso che faceva l'avvocato uno più a livello di normativa, uno più nel pratico così almeno poi rivolgo la stessa domanda a Claudia Scheffer e Simona Liguoro paradossalmente appunto avvocato nel momento in cui abbiamo iniziato a utilizzare maggiormente lo strumento dello smart working ci siamo accorti che la normativa era già superata, quindi dovevamo comunque rivederla e in questo modo la situazione esterna ci permette di farlo. Invece il paradosso più pratico, e appunto poi qui è la mia domanda, è che l'avvocato ha detto le aziende in generale avevano quasi timore dello strumento dello smart working che pare essere uno strumento che dia troppa libertà al lavoratore e che possa quindi rendere meno. In realtà ci siamo accorti del contrario, che spesso e volentieri si lavora quasi di più stando in smart working ma io è proprio questa la domanda, parto da Claudia poi vado da Simona. Come avete vissuto questo cambiamento all'interno della vostra azienda? Cioè che cosa avete rilevato effettivamente nella concretezza? Allora noi abbiamo imparato molto durante la pandemia e già avevamo da anni in essere una policy di remote working che dava la possibilità ai dipendenti di lavorare uno o due giorni la settimana da casa, mediamente era un giorno. Quello che abbiamo imparato nella pandemia è di adattarci a maggiore flessibilità, accelerare l'utilizzo di nuove tecnologie e essere più veloci per prendere decisioni. Ci siamo trovati da un giorno all'altro a dover lavorare da casa al 90% della banca senza compromettere il servizio per la clientela e con gli stessi livelli di produttività con un migliore work-life balance per i nostri dipendenti. Questa esperienza rappresenta un'enorme opportunità per cambiare il futuro del lavoro, future of work e stiamo andando verso un modello ibrido, ossia un po' dall'ufficio, un po' da casa, in linea con l'equilibrio giusto per i dipendenti. Non sarà una taglia unica per tutti perché ci saranno persone che preferiscono venire in ufficio, che magari a casa non hanno la possibilità di avere uno spazio dedicato, che hanno bambini e come possono esserci persone che magari abitano più lontani o hanno una situazione personale che dà una preferenza per un lavoro da casa. Quindi quello che abbiamo fatto recentemente, abbiamo lanciato una survey interna per raccogliere proprio le esigenze e i desideri da parte dei dipendenti. Più di due terzi hanno espresso una forte preferenza per un modello ibrido, quindi con la maggioranza del tempo da casa, con uno, due, tre giorni in ufficio. Il prossimo passo ora sarà di mappare insieme ai responsabili, in base anche ai ruoli dei dipendenti, un modello che sarà poi la base per policy e procedure da implementare per il futuro. L'ufficio come principio in questo nuovo mondo sarà un luogo per incontrarsi, socializzare e avere incontri di persona, non per mandare e ricevere email, che si può benissimo fare anche da casa e nel tempo può anche aiutare a ridurre gli spazi. Quindi sicuramente una visione molto in linea con quello che già stiamo vivendo oggi. Beh, anche questa ricerca interna con i dipendenti è molto interessante. Abbiamo compreso, fondamentalmente che è vero, abbiamo un concetto di smart working unico, ma che poi viene declinato diversamente. Quindi in realtà ci sono tanti pezzetti che vanno a agganciarsi allo stesso tema. Effettivamente le esigenze di ciascuno sono relative, no? Non è che siamo tutti uguali. A partire proprio dagli spazi fisici, ma anche dalla realtà che viviamo in casa. Chiedo la stessa cosa a Simona, insomma anche rispetto a quello che Claudia Schaeffer diceva. Avete ritrovato anche voi le stesse premesse e aggiungiamo altri punti che vi riguardano direttamente. Sì, allora devo dire che noi ci siamo mossi coinvolgendo da subito le persone. Abbiamo capito che era cambiato il mondo, perché questo periodo in remote working in realtà è come se ci avesse fatto andare avanti di dieci anni, no? E quindi abbiamo deciso di costruire insieme alle nostre persone il, diciamo, lo smart working del futuro, che noi abbiamo chiamato fab working. Un po' perché speriamo sia davvero fabulos, un po' perché per noi l'acronimo significa flexible, nel senso che sarà molto flessibile, adaptable, sarà adaptabile ai gruppi di lavoro o ai team di lavoro, e poi sarà bilanciato, perché tutti quanti ci hanno detto, a tutti i livelli dell'organizzazione, quindi sia con le survey, sia con i gruppi, diciamo, qualitativi, di ricerca qualitativa, che le persone ritengono che il bilanciamento giusto sia 50 e 50. Quindi le persone vogliono lavorare per il 50% da casa, per svolgere tutte quelle attività che richiedono focus, che richiedono, come dire, magari creatività, oppure tanta cura, e invece ovviamente vogliono andare in ufficio per tutta la parte di team, tutta la parte di brainstorming, tutte quelle attività che hanno bisogno di interazioni, e quindi di, diciamo, aggiungere visioni e punti di vista. Quindi, in realtà, noi abbiamo trovato, diciamo, tutti completamente allineati, dai top manager a tutte le persone di azienda, ed è interessante quello che ha detto l'avvocato Fossati, perché, in realtà, da un modello che noi utilizzavamo prima, che era molto sulla persona, quindi sull'individuo, come beneficio individuale, quindi per andare incontro al work-life balance delle persone, il nostro nuovo fab working ha a che fare con la performance, cioè quello di cui ci siamo resi conto è che, bilanciando le diverse esigenze e le attività, e svolgendole dai luoghi più corretti, è la performance dell'azienda che cambia, e quindi il nuovo modello non vuole più andare incontro al singolo individuo, o alla sua singola necessità di work-life balance, ma vuole andare proprio incontro a un nuovo tipo di lavoro, che si basa ovviamente sulla performance, per alzare queste performance, e far sì che ciascuno possa costruirsi con un bilanciamento corretto la vita più giusta e più felice, in qualche modo. Quindi, confermo. Beh, credo che poi le cose siano assolutamente collegate, nel senso che si parte dall'individuo, poi non si rimane sull'individuo, perché chiaramente parliamo di team e azienda, ma se si banalmente aiuta l'individuo a tirare fuori le proprie potenzialità, le proprie caratteristiche personali e individuali, poi questo va a beneficio della squadra, quindi che poi, ecco, ha sottolineato come sia un processo che è stato accelerato, cioè siamo avanti di dieci anni, non cent'anni troppo, adesso non esageriamo, è bene che siamo indietro con i tempi, ma insomma dieci anni in più, in questo caso è bene avere dieci anni in più, di solito si tende a tornare indietro. Avvocato, allora, abbiamo ascoltato non a caso delle esperienze dirette personali, perché poi accanto alle riflessioni più astratte, non che le normative siano astratte, però chiaramente danno un'indicazione più generale, e poi bisogna ovviamente applicarle. Lei ha già detto che la normativa pre-emergenzale era datata, cioè era già superata. Ascoltando anche questi esempi, che cosa non risponde, perché non dà risposte al nuovo modo di lavorare, appunto, delle aziende di oggi? Guardi, qui i temi sono diversi e non sono limitati, a mio avviso, alla normativa che disciplina l'istituto, cosiddetto dello smart working, poi giustamente ci si ricordava che usiamo il termine smart working, ma non è quello corretto, perché bisognerebbe parlare di remote working o di working from home, come usano la terminologia che usano gli anglosassoni per definire questo istituto. Comunque, continuiamo a usarlo, tanto è un termine che è entrato a far parte dell'uso comune e ci capiamo. Innanzitutto, i temi, secondo me, diciamo le criticità più evidenti, quelle che dovranno, a mio modo di vedere, essere affrontate e risolte prima che venga meno la legislazione emergenziale, perché ricordiamoci che la legislazione emergenziale oggi è ancora in vigore, ma in teoria è destinata a cessare di produrre effetti fra poche settimane. Poi sappiamo tutti che ragionevolmente ci saranno delle proroghe ulteriori e quindi non ci aspettiamo un'emergenza, però quello che ragionevolmente dovrà essere affrontato e risolto, a mio avviso, con certezza, prima di poter rimuovere la normativa emergenziale e tornare alla normalità, sono due criticità di cui una già facevo cenno in precedenza, cioè la prima è questo tema della revocabilità dello smart working, bisogna pensare, come la vedo io, proprio per consentire una programmazione stabile, sia in termini di vita privata del dipendente, sia per le aziende, per la gestione degli spazi e dell'organizzazione del lavoro, bisogna pensare alla possibilità di una programmazione di medio e di lungo periodo, quindi bisogna che sia il dipendente da una parte, sia l'azienda dall'altra parte possano contare sullo smart working, pensate solo banalmente a una cosa legata a quello che dicevamo prima, cioè il fatto che nella realtà oggi molte persone vivono in città per stare vicino a dove lavorano, vivendo in città sono obbligate a gestirsi all'interno di spazi normalmente piuttosto ristretti, spesso anche con una qualità della vita discutibile, ma un domani che potessero pensare a uno smart working in modo, diciamo, definitivo, potenzialmente, in una prospettiva di lungo termine, probabilmente sceglierebbero di vivere fuori. Ripensare tutta la loro vita? Cioè, detto così, sembra assurdo, però è vero. È così, sì, ripensare al modo di gestire la vita, tra l'altro con le stesse risorse, con lo stesso stipendio, fuori puoi permetterti i casi più grandi, più comodi, con spazi più adatti per il lavoro, eccetera, eccetera. Migliorare, in generale, la qualità della vita. Ma questa cosa non è compatibile con una normativa che consente all'azienda di revocare il beneficio unilateralmente. E dall'altra parte, per l'azienda è lo stesso. Cioè, se l'azienda deve poter gestire gli spazi di lavoro secondo questa logica da future of work, per usare la terminologia di HSBC, in realtà deve poterlo fare sapendo di poter contare sul fatto che chi ha detto di sì allo smart working totale o parziale, più probabilmente parziale, perché anche a me risulta che totale lo vogliano in pochi, in realtà, perché vuol dire rinunciare completamente alla dimensione sociale del lavoro, eccetera. Quindi tutti quanti in questo anno e mezzo abbiamo capito... Anche perché adesso un po' di respiro dalle cose di casa, diciamoci, senza essere... Per cambiare anche un po' la panoramica che abbiamo di fronte. Anche questo è un valore giunto. No, tutti i giorni. Assolutamente. Però per poter gestire questa nuova organizzazione c'è bisogno di poter contare sul fatto che... di sapere in anticipo quanti giorni verranno in ufficio i dipendenti e come gestire gli spazi. Quindi questa è la prima cosa. La seconda cosa, se vogliamo, è di segno opposto e poi arriviamo alla terza, che è quella più importante. Ma la seconda è il tema di proteggere il dipendente, la sfera della vita privata del dipendente dall'invasione incontrollata del lavoro. E qui è un discorso sottile perché in realtà è lo stesso dipendente che non riesce a proteggersi da solo perché lo sappiamo tutti come va. Se hai il computer a casa e la possibilità di guardare le mail, dopo cena magari le guardi. Magari le guardi anche il sabato, la domenica e senza rendertene conto ti ritrovi di nuovo agganciato e vai avanti con il lavoro, con questa compenetrazione che può essere un plus se è gestita bene, ma può diventare patologica se non è gestita in modo corretto. E qui dobbiamo tenere presente, tra l'altro, che la Corte di Giustizia, la giurisprudenza comunitaria, ha enfatizzato proprio in periodi immediatamente precedenti l'esplosione della pandemia, l'importanza di imporre ai datori di lavoro meccanismi di misurazione della durata della prestazione proprio per evitare il rischio dell'overworking. È chiaro che questa cosa oggi applicata allo smart working è molto più difficile perché è relativamente facile misurare la durata della prestazione di un dipendente che viene in ufficio 5 giorni a settimana, ma uno che lavora da casa è molto più complicato. E da qui il passo al diritto alla disconnessione, come viene chiamato. Il diritto alla disconnessione va regolamentato. Da noi una regolamentazione compiuta di questo istituto non esiste, perlomeno non una regolamentazione diretta, bisogna pensarla, costruirla. E poi c'è l'ultimo punto, quello se vogliamo veramente centrale è veramente rilevante, più interessante dal mio punto di vista come giurista, cioè come questo nuovo modo di vivere e di lavorare sia compatibile con il concetto tradizionale di prestazione di lavoro subordinato e con la contrapposizione tra i due paradigmi della subordinazione e dell'autonomia come li concepisce il codice civile. Questo è il vero punto, quello più interessante, la sfida più interessante per noi giuristi perché noi continuiamo ad avere i paradigmi dell'autonomia e della subordinazione cristallizzati in due norme che sono nate nel 1942 e che da allora non sono mai cambiate. Mai cambiate. Gli articoli del 2094 è l'articolo 2222 del codice civile che ancora configurano il rapporto di lavoro subordinato intanto non parlano di rapporto di lavoro subordinato ma parlano di prestatore di lavoro subordinato perché si era ancora in epoca corporativa e non si concepiva perlomeno era discusso la possibilità di parlare del rapporto di lavoro come un contratto figuriamoci cioè un altro mondo e comunque faceva ancorava il paradigma della subordinazione fondamentalmente sul concetto dell'obbligazione di mezzi contrapposta all'obbligazione di risultato che è tipica del rapporto di lavoro autonomo e poi l'ancorava sull'eterodirezione cioè l'assoggettamento alle altrui decisioni direttive contrapposto all'autonomia tipica della prestazione di lavoro autonomo sono due due tratti distintivi che non reggono più perché abbiamo sentito che si parla di performance e ovviamente di fiducia perché di misurazione dei risultati perché questa è l'unica misurazione possibile di un lavoro fatto da remoto e non più di mezzi beh la prima cosa appunto e qui è anche la domanda che voglio rivolgere a Claudia Schaeffer cioè dobbiamo anche toglierci noi di dosso questa associazione immediata che abbiamo con la parola subordinazione tra la parola subordinazione e controllo cioè invece dare spazio alla responsabilità che poi diventa la responsabilità individuale chiaramente con tutta una serie di controlli che vengono fatti in maniera diversa non certo fisicamente allora da questo punto di vista Claudia chiaramente sappiamo che i cambiamenti richiedono del tempo per essere metabolizzati perché insomma è la cosa più complicata però ci deve essere anche un terreno fertile su cui poi poterli misurare e poterli implementare dal suo punto di vista quali sono i nodi più difficili da sciogliere da questo contesto? Allora dal mio punto di vista è una sfida culturale e una formazione maneggeriale su quale bisogna intervenire sicuramente il rapporto di lavoro si basa sulla fiducia sull'autonomia e abbiamo parlato prima di flessibilità in un momento dove tutti lavoriamo da casa è più facile da un certo punto di vista perché siamo tutti nella stessa situazione potrebbe cambiare nel momento in quale entriamo in un modello ibrido una parte dei dipendenti si trova in ufficio e un'altra parte si trova a casa automaticamente potrebbe crearsi due culture aziendali è una questione di inclusività spesso in questo periodo di pandemia abbiamo ricevuto feedback da parte dei team anche internazionali che non si sono mai sentiti così inclusi come in questo momento dove tutti sono nella stessa situazione e questo secondo me va assolutamente conservato quindi formazione maneggeriale come gestire team da remoto e sicuramente non significa che tutti dalle otto mezzo fino alle cinque devono essere online non stop e dopo non si controlla diciamo il concetto di flessibilità è anche quello che magari gli orari possono cambiare in linea con le esigenze magari può esserci un periodo dove uno sta con i figli e poi recupera in altri momenti della giornata magari ci sono dei momenti in cui i figli non permettono di essere produttivi al 100% e altri quando dormono la sera in cui una mamma e un papà possono gestire le cose assolutamente infatti già spesso nelle email in fondo si legge io rispondo durante il mio orario e non mi aspetto una risposta nello stesso orario perché magari tu hai un altro orario quindi questa flessibilità e cambiamento culturale dal mio punto di vista è chiave poi più andiamo verso un modello di lavoro da casa potrei anche vedere una necessità per intervenire sui sui contratti di lavoro quindi questo sicuramente dal punto di vista normativo potrebbe rendersi necessario come anche in una banca internazionale come la nostra complessi aspetti complessi legali fiscali per il cross border working quindi persone che magari vogliono lavorare dall'estero che non è sempre così facile per motivi fiscali legali quindi questa è un'altra tematica ma diciamo la sfida principale per me è quella culturale la mentalità insomma che poi vabbè un po' quello che già dicevamo io tornerei un istante ancora dall'avvocato poi torno anche da Simona ma quindi nuovo concetto di subordinazione ma stiamo andando verso un superamento cioè come è possibile anzi le chiedo secondo lei questo superamento di paradigma di appunto dobbiamo fare una svolta culturale di mentalità questa è una è una domanda difficilissima per cui mi scuso anticipatamente se la risposta che darò non avrà il livello di complessità che richiederebbe questa domanda però il tema è questo cioè per come la vedo io un'altra cosa che ci ha dimostrato impietosamente purtroppo questo periodo di emergenza è che le fasce veramente fragili di persone oggi più bisognose di protezione dal punto di vista dell'ordinamento giuridico non sono più i lavoratori dipendenti perlomeno non i lavoratori dipendenti delle aziende che hanno certe caratteristiche sono molto più esposti alcune categorie di lavoratori autonomi e questo è il punto se partiamo dal presupposto che è così come è sempre stato nel nostro ordinamento giuridico a livello storico almeno nell'epoca post corporativa che essere lavoratori subordinati è la chiave di accesso a tutta una serie di garanzie e di protezioni allora forse bisogna cominciare a ragionare sul fatto che questa chiave di accesso deve essere utilizzabile anche da soggetti che non sono subordinati secondo i parametri tradizionali in questo modo sto già parzialmente rispondendo alla sua domanda nel senso che evidentemente forse ma qui ripeto poi il dibattito sarebbe estremamente ampio e complesso bisognerebbe pensare a rispolverare alcuni paradigmi che erano tipici della cultura giuridica di diversi decenni o sono parlo degli anni 60-70 l'epoca dell'autunno caldo la giurisprudenza la prima giurisprudenza post statuto dei lavoratori quando si parlava del concetto di parasubordinazione incardinando la differenza tra autonomia e subordinazione sul livello di necessità di protezione sul bisogno di protezione cioè la subordinazione come dipendenza economica da un committente questo forse potrebbe essere un paradigma da riconsiderare in questa fase proprio nella logica di cercare di ripensare il sistema delle tutele così da fare in modo che queste tutele siano effettivamente veicolate verso quelle categorie di soggetti che più ne hanno bisogno in questo momento certo però è semplicemente uno spunto di riflessione questo ci fa capire però esattamente quanto deve cambiare proprio il nostro modo di rapportarci alla realtà lavorativa quindi insomma diciamo che il concetto è unico ma come al concetto di smart work stiamo aggiungendo vari significati allora Simona riparto da lei e poi ritorno anche da Claudia Schaeffer abbiamo capito che lavoro vuol dire proprio cultura cultura del lavoro e l'HR Forum di oggi vuole riflettere proprio su questo per capire lo dicevamo in apertura come affrontare queste sfide secondo lei e poi stessa domanda anche a Claudia la luce delle riflessioni fatte proprio dall'avvocato Fossati quale potrebbe essere la cultura del lavoro nuova cioè parlavamo prima di nuova normalità quale avete un'idea o comunque vi state già dirigendo in qualche in qualche luogo in qualche direzione appunto allora sì dobbiamo considerare due cose la prima quali sono le competenze che dobbiamo rispolverare e che avremmo dovuto rispolverare comunque qui diciamo si è accelerata la necessità quindi sicuramente noi per esempio con i manager ma anche con gli employee quello che stiamo facendo è andare diciamo a rispolverare un modello che ha tre pilastri fondamentali per poter lavorare bene con team remoti cioè da una parte tutta una parte di performance management fatto in maniera diversa e vi ci torno tutta una parte di engagement del team o per le persone singole diciamo per i membri del team di partecipazione al team cioè quanto tu ci metti per partecipare al team e per dare valore al team e poi c'è tutta un'area comune di benessere salute e benessere come occuparsi di te e del proprio team in modo tale che anche in questa nuova normalità si trovi un bilanciamento vero parlando di performance management quello su cui noi ci stiamo proprio indirizzando fortemente è con questo diciamo ultimo anno ma anche prima ci siamo resi conto che questi piani che facevamo a tre cinque anni dieci anni non hanno nessun più senso e significato da un certo punto di vista perché le cose cambiano talmente velocemente che quello che tu hai scritto già un quarter fa non non si avvera e quindi tutto quello che dobbiamo fare è trovare delle modalità di fare una valutazione dei risultati che sia rolling esempio obiettivi trimestrali che ci aiutano a vedere nel breve e che ci aiutano a cambiare i piani man mano che le cose all'esterno all'interno delle organizzazioni cambiano un altro esempio è verificare questi risultati una volta a settimana perché è possibile che accadano cose che ci chiedano delle pianificazioni diverse e in tutto questo si intreccia tutto il grande tema dei feedback continui che ti permettono di capire come stai andando se stai andando bene se ci sono delle cose da modificare e di scambiarsi proprio delle competenze in maniera continua quindi queste sono le grandi aree su cui noi stiamo lavorando e che pensiamo siano necessarie perché questo nuovo fab working possa funzionare esatto beh insomma in questo lavoro favoloso per tradurlo anche in italiano la condivisione è fondamentale insomma il fatto che il team abbia davvero una condivisione di obiettivi ma totali e poi la flessibilità l'abbiamo già detto e la fiducia che fanno parte di un unico pacchetto insomma Claudia chiedo la stessa cosa a lei nel senso che se vuole aggiungere anche altri elementi alla ricetta alla ricetta ideale mettiamola così la ricetta magica sono molto allineata a quello che diceva Simona la flessibilità la fiducia l'autonomia e la collaborazione in team e sicuramente credo che la maggior parte del futuro del lavoro sarà ibrido meno tutto da casa o tutto dall'ufficio sempre ovvero possibile ovviamente per il ruolo e penso che è particolare attenzione bisogna prestare a neoassunti e ai giugno perché quello che abbiamo notato che con il lavoro da casa manca anche una importante parte di poter lavorare dagli altri quindi qua secondo me è fondamentale avere dei percorsi che permettono a neoassunti ai giugno di poter imparare dai colleghi del team e avere giornate dove poi i team interi sono in ufficio proprio per evitare queste due culture di quale stavamo parlando prima e quindi vivere il luogo di lavoro come un momento di socializzare sviluppare delle idee networking e non per mandare ricevere e-mail a porta chiusa e fare telefonate quindi questa secondo me è la direzione ecco io volevo chiedere l'ultima cosa torno da Simona proprio in una manciata di minuti l'abbiamo già detto a più riprese attraverso la voce di tutti il cambio di mentalità è fondamentale ma proprio se volessimo ribadire a livello procedurale organizzativo le questioni su cui bisognerà lavorare necessariamente cosa mettiamo in pole position allora per me la cosa base di tutte sono performance management e feedback ok cioè saper creare degli obiettivi che le persone hanno chiari e che riescono a raggiungere e quando non hanno tutti gli strumenti aiutarli a farlo questo è proprio back to basic veramente sì 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 proprio queste confermate insomma bisogna partire da qui Claudia anche secondo lei sicuramente performance management e gestione dei team quello sarebbero i miei top two ok avvocato dal suo punto di vista ovviamente che cosa bisogna necessariamente fare subito proprio per anche recuperare il tempo perduto perché abbiamo detto che già prima di utilizzare questo smart working nel vero senso della parola che poi non abbiamo cioè i sensi sono tanti però insomma come ci siamo capiti l'abbiamo detto più volte eravamo già in ritardo cioè siamo partiti sì ma adesso siamo siamo in ritardo anche su un altro aspetto che è collegato al tema dello smart working secondo me naturalmente cioè questo modello ideale di lavoro del futuro che probabilmente è domani perché poi appunto in forza di questo percorso di questo processo di accelerazione le cose ci arrivano in faccia molto più velocemente di quello che potevamo immaginare dobbiamo fare pace con l'idea che se da una parte il concetto di subordinazione tradizionale come chiave di accesso a determinati livelli di tutela minimi dovrà essere estesa rispetto alla platea di oggi almeno così la vedo io dall'altra parte bisognerà accettare che si vada verso una flessibilizzazione del lavoro subordinato non soltanto nella logica dell'organizzazione del lavoro e quindi nella logica dello smart working della flessibilità negli orari eccetera eccetera ma anche nella logica della facilità di aprire e chiudere contratti perché questo deve far parte della gestione cioè almeno qui poi naturalmente non sono io a doverlo dire però a me pare che sia impensabile incentrare il rapporto di lavoro sugli obiettivi sui risultati della performance da una parte e mantenere parametri di rigidità in uscita dal contratto del lavoro come quelli di oggi non ha senso cioè stiamo parlando di cose che non sono compatibili tra loro tipologie di lavoratori differenti assolutamente tra l'altro non è neanche nell'interesse dei dipendenti non è neanche nell'interesse dei dipendenti perché quelli che avrebbero la possibilità di riqualificarsi di fare cose per cui sono più portati se soltanto stessero in un contesto in cui il focus fosse più sulle politiche attive di ricollocazione che non sulla protezione a oltranza di posti di lavoro che non esistono più allora probabilmente si farebbe anche l'interesse delle persone infatti stavo dicendo non è adesso il momento per parlarne ma insomma un altro tema è proprio questo che a parte ci troveremo di fronte a una situazione proprio lavorativa generale che non prevede più la presenza di lavori che fino all'altro ieri c'erano per intenderci ma soprattutto questo è un altro nuovo modello perché l'evoluzione è sempre più veloce delle cose quindi di conseguenza si creano proprio anche dei lavori nuovi ogni giorno lo diceva forse prima Simona domani è già tardi quello che scriviamo oggi domani bisogna già superarlo in qualche modo non cancellarlo attenzione questa è la chiave ma aggiungere degli elementi in più io ringrazio naturalmente voi tre perché avete messo sul tavolo delle questioni importanti che mi auguro però possono avere l'accelerazione giusta e che come paese meritiamo perché poi a cascata si traduce in tante migliorie e miglioramenti proprio per il modo di lavorare quindi grazie grazie all'avvocato Carlo Fossati grazie a Claudia Scheffert e grazie a Simona Liguoro davvero grazie mille grazie buona serata grazie a tutti